Carissimi amici sono qui per ringraziarvi perché oggi mi sono accorta che ho 900 persone nel mio canale iscritte, scusate l'emozione, per cui vi ringrazio tantissimo e ci vedremo ancora. Se avete magari delle cose da chiedermi o se volete dei video particolari così lasciatemelo scritto qui sotto sotto questo video e vediamo che cosa riesco a fare compatibilmente col tempo che ho ma con gioia vedrò di accontentarvi. Arrivederci!